politica della pubblica estruzione di Frosinone e sono venuta da Frosinone nonostante il blocco a Piazza del Popolo proprio per te Lino. Tu sai che un anno e mezzo fa ti ho conosciuto e da allora è partito un grande rapporto di amicizia con te e con i membri della tua famiglia. Abbiamo realizzato una bellissima mostra che ha avuto un grande successo a Frosinone e alla villa comunale che ancora ne passano otto mesi fa eppure ancora ne passano. Ti ho seguito a San Felice e adesso in questa location devo dire complimenti è veramente stupenda. I tuoi quadri tu sai esprimono veramente la vera arte, la vera arte, simbolismo e surrealismo collegati e ci sono dei quadri particolarmente che mi interessano, quelli che riguardano la donna, la donna che ormai è l'essenza dell'universo, quindi c'è la donna violentata, la violenza contro la donna ed è bellissimo che è un argomento che io poi a Frosinone porto avanti da tempo, il bocciolo della vita e quindi ecco queste figure femminili che esprimono veramente la bellezza. Diceva Dostoievski la bellezza salverà il mondo e io mi auguro veramente che questi tuoi quadri e il tuo entusiasmo continui ancora per anni e anni e anni. Ti seguiremo perfino a Bruxelles, se farai una mostra a Bruxelles ti seguiremo anche lì. Complimenti a D'Amaiola, grazie. Grazie a te. Bravo. Bravo.